Io vorrei poter suonare una canzone che secondo me ha iniziato un corso nuovo della musica italiana Di che anno è? È del 1960-61 60-61? Si può? Mi spiace, non si può fare Adesso che cos'è? Fanno un'interrogazione parlamentare? L'ha detto lui, non l'ho detto niente io La branca si può fare una canzone del 60-61? Assolutamente no Ma come no? Come no? Niente, non si può fare Vabbè, ma io ho fatto delle cose incredibili in 5 puntate Ho cambiato improvvisamente idea perché Tognetti mi sta minacciando Saremo magnanimi Tognetti, lei la vuole? Io vorrei che la facciasse Decide Sabina, sì o no? Sì Sì, la puoi fare Ti lascio solo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti